Sull'alta velocità il governo prende ancora tempo, il vertice notturno non ha avvicinato le posizioni, anzi in una nota Palazzo Chigi fa sapere che sono emerse criticità. Ci riproviamo oggi, dice il vice premier Di Maio, ammettendo che la situazione è difficile ma che non si rischia una crisi di governo. Adesso il tema è la ripartizione dei finanziamenti del progetto tra Italia, Francia ed Europa. Per questa sera è convocato un consiglio dei ministri. Sul governo e sulla TAV tiene il mirino puntato il presidente della regione Piemonte. Per Chiamparino l'esecutivo è alla disperata ricerca di pretesti per continuare in quella che definisce insopportabile Manfrina. Mentre l'ex segretario dell'APD Renzi sfida il vice premier Salvini a dimostrare proprio sulla questione TAV se sia un leader oppure no. È partita l'operazione reddito di cittadinanza. Le prime card saranno disponibili a fine aprile. A guidare i beneficiari della misura per trovare un lavoro saranno i navigator. In circa 60.000 parteciperanno alla selezione per 60.000 posti da tutor. I candidati dovranno superare un test a risposta multipla su diverse materie tra cui logica informatica e diritto del lavoro. Dopo una serie di dati negativi sulla nostra economia uno spiraglio arriva dal commercio al dettaglio. L'Istat sottolinea una leggera ripresa soprattutto per la grande distribuzione ma tutta l'attesa è per la riunione della Banca Centrale Europea che dovrebbe tagliare le stime di crescita dell'Eurozona e soprattutto annunciare un nuovo maxiprestito anche per l'Italia. In attesa le borse soffrono. Dalla Commissione Europea arriva una nuova bacchettata. Questa volta l'Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia perché non rispetta le norme sull'inquinamento e sul trattamento delle acque fognarie. Ad avere superato i limiti del biossido di azoto sono grandi città come Milano, Roma, Torino ma anche centri più piccoli e aree come la pianura Lombarda e la costa Toscana. Siamo stati derubati, la VAR non è servita a nulla. Il commento del presidente della Roma Pallotta dopo la sconfitta con il Porto e la conseguente eliminazione dei giallorossi dalla Champions League si sta valutando la posizione in queste ore del tecnico di Francesco a rischio esonero. Questa sera andata degli ottavi di Europa League in campo Inter e Napoli rispettivamente contro Eintracht di Francoforte e Salisburgo. Buongiorno dal telegiornale della Sette, dunque come avete sentito nonostante il lungo vertice notturno sulla TAV resta allo stallo e restano le tensioni nella maggioranza anche se per i due vicepremiere il governo non è a rischio. Palazzo Chigi questa mattina in una nota ha ammesso che ci sono delle criticità che servono altri approfondimenti. serve un approfondimento giuridico per esempio sui bandi di Telt che se non partiranno vedranno l'Italia perdere parte dei finanziamenti europei e serve un nuovo confronto perché adesso il tema è quello della ripartizione dei finanziamenti tra i due attori principali, i tre attori a dir meglio, ovvero Italia-Francia e Unione Europea. Sono assolutamente a mio agio in questo governo che sicuramente regge, dice Matteo Salvini questa mattina da Potenza dove è sbarcato per un giro di comizi in vista delle prossime amministrative. Tutto bene o quasi quindi perché il capo della Lega aggiunge di aver risposto così anche durante le campagne in Abruzzo e Sardegna e lo farà ancora. Un solo riferimento al vertice che doveva dare una risposta sull'alta velocità e invece è finito a notte fonda con un nuovo rinvio. Ci sono alcune divergenze su alcuni temi però con il buonsenso si risolve tutto l'ammissione del capo della Lega. Sono necessari ulteriori incontri non essendoci accordo finale certifica il fallimento dell'incontro anche Palazzo Chigi con una nota questa mattina. Troppo distanti le posizioni. Vana è stata l'opera di mediazione del Premier Conte pur indicato alla vigilia sia da Di Maio che da Salvini come colui che doveva tirare le somme. Il vertice è stato infruttuoso e tosta, ci riproveremo oggi l'impegno del capo 5 Stelle Di Maio che esclude una crisi di governo. Se ci prendiamo qualche settimana in più non credo sia un problema, temporeggia il capogruppo 5 Stelle al Senato Patuanelli. L'opzione rinvio come soluzione provvisoria per non strappare perché le posizioni rimangono distanti e per ora inconciliabili. Ma i tempi stringono, lunedì 11 marzo i vertici di Telt, l'azienda italo-francese che deve realizzare l'alta velocità dovrà dare il via libera ai bandi per gli appalti. Ballano 800 milioni di euro di fondi dell'Unione che l'Italia potrebbe perdere. 5 Stelle e Lega hanno deciso di chiedere alla Francia un confronto per una ulteriore analisi sui criteri di spesa. Altra mossa per prendere tempo. Ma che lascia risolto il punto chiave? I 5 Stelle non vogliono l'opera e semmai rilanciano sul miglioramento della linea esistente della Galleria del Frejus. La Lega rimane favorevole alla TAV, nessuno mi farà cambiare idea che è più veloce e meno inquinante. L'avvertimento lanciato ai 5 Stelle da Salvini prima del vertice dove è entrato, con in tasca anche l'ultimatum referendum da fare, come chiede anche Chiamparino, in Piemonte contemporaneamente alle europee. Stasera alle 19 il Movimento ha convocato un'assemblea dei parlamentari, presenta anche il vicepremier Di Maio. Cedimenti alla linea del no non sono previsti, conferma in aula al Senato Alberto Airola. Alle 19.30 in programma il Consiglio dei Ministri, ma a questo punto potrebbe forse slittare. Questa dunque è la fotografia della situazione. In questo contesto si alza la voce delle opposizioni contro il governo. Molto dure le parole del Presidente della Regione Piemonte e Chiamparino, che dice che l'esecutivo è alla ricerca di pretesti, che sta continuando in questa insopportabile manfrina. A sentirsi è anche l'ex segretario del PD, Matteo Renzi, che sfida Salvini con queste parole. Sulla TAV si vedrà se Salvini è un leader o no, o fa la TAV o sta bloccando in nord la faccia di quelli che dicono che con la Lega c'è sviluppo. Lo sprona così Renzi-Salvini animando il nuovo corso del PD di inizio era Zingaretti, lasciandosi alle spalle dubbi e perplessità sull'opera che sta infiammando il governo e che il governatore del Piemonte, Chiamparino, definisce stamattina una manfrina insopportabile, proponendosi come Forza Italia come partito del fare e tenendo il mirino ben puntato più sui 5 Stelle che sulla Lega. Non solo perché ha più facile portata di sorpasso elettorale, non solo perché Salvini sta iniziando a saturare, dice Renzi, ma perché attribuisce al muro da lui eretto il merito di quella che ora definisce l'esplosione dei 5 Stelle. Se avessimo fatto quell'alleanza contro Natura l'effetto sarebbe stata la distruzione del PD e la creazione di un bipolarismo 5 Stelle-Lega. Mi sono preso gli insulti di una parte dei dirigenti che quell'accordo lo volevano, ma il mio impegno ha permesso di salvare il PD, dice Renzi, confermando quanto le vecchie ferite siano destinate comunque a pesare anche nel nuovo partito cui Zingaretti sta cercando di dar forma, magari ricorrendo anche a figure di orbita ex-Renziana come la De Micheli e Zanda. Un bel contributo che aiuta a aprire una fase con uno spirito nuovo, il commento a Renzi del neosegretario che rintraccia lo stesso spirito, unità e cambiamento anche in Pisapia, il quale Pisapia, a differenza di Renzi, chiama apertamente in causa la parola sinistra. Già protagonista di un meteorico progetto unificante delle tante e nervose anime di quel settore del palcoscenico politico e rianimato come prodi dall'elezione di Zingaretti, l'ex sindaco di Milano ora dice di voler ripartire là da dove si era fermato. Oggi abbiamo un'altra occasione e possiamo evitare di ripetere gli errori, afferma senza troppo soffermarsi però su quali siano stati questi errori. L'idea unitaria di cui a suo tempo Pisapia tentò di farsi interprete è in certo senso simmetrica. Quella tentata è per ora rimasta a mezz'aria da Calenda, collocato infatti all'estremo posto di Pisapia in un ipotetico centro-sinistra che ora, a quanto pare, sta cercando di riprendere forma. Faticosamente però, almeno stando agli incontri o alle prove di incontri già avuti da Zingaretti, finalizzati a trovare la forma più efficace per presentarsi all'Europea di maggio. La Bonino di più Europa ha già detto di voler presentarsi in purezza, per dir così. I Verdi e Italia in comune preferiscono andare per conto loro, mentre con Calenda resta sempre in ballo, gira e rigira. Quella parolina a cui Zingaretti continua a mostrarsi molto affezionato, sinistra. Proprio adesso fonti della Lega sottolineano sul tema TAV che la questione per la Lega è utile alla crescita del Paese, dunque l'opera utile alla crescita del Paese. La conferma dei bandi resta un passaggio fondamentale per la realizzazione appunto di questa alta velocità tra Torino e Lione. Parliamo del reddito di cittadinanza. Cominciata ieri la procedura per le richieste, occupiamoci anche però della seconda fase, quella che vedrà centrali i navigator, ovvero coloro che accompagneranno i beneficiari del reddito di cittadinanza al reinserimento nel mondo del lavoro. Ci sono i termini del bando, dovranno superare un quesito a risposta multipla. Si attende la carica di 60.000 persone che cercheranno di trovare uno di quei 6.000 posti disponibili e previsti. Su questo tema però, come sapete, c'è il braccio di ferro che riguarda la competenza tra regioni e governo e le regioni attaccano di mai. Ieri la partenza senza intoppi e senza salti tra poste e IMS e le richieste dei possibili beneficiari del reddito di cittadinanza sono stati oltre 44.000 a cui vanno aggiunte le domande presentate ai CAF per cui il totale potrebbe sfiorare quota 60.000. In tutto saranno 1,3 milioni i nuclei e circa 4 milioni le persone che potranno usufruire del beneficio con una distribuzione abbastanza omogenea su tutto il territorio nazionale. Ieri l'Inps ha confermato la tempistica con le prime ricariche sulle card che dovrebbero avvenire a fine aprile. Resta da risolvere tuttavia il problema dei navigator a cui assieme ai centri per l'impiego verrà affidato il compito cruciale di orientare le persone nel percorso di ricerca del lavoro. Secondo Di Maio ne servono 10.000 4.000 a carico delle regioni 6.000 di Ampal Servizi la società che si occupa delle politiche attive del lavoro che proprio in queste ore ha pubblicato il bando per l'organizzazione della selezione. In pratica Ampal Servizi cerca una società che organizzi i test agli aspiranti navigator che si calcola saranno ben 60.000. La prova consiste in un test a risposta multipla composto da massimo 100 quesiti su 10 materie tra queste cultura generale, logica, informatica, diritto del lavoro e naturalmente le regole del diritto di cittadinanza. I quesiti e le relative risposte si legge nel bando dovranno essere predisposti considerando un livello culturale universitario. Le assunzioni alla fine saranno comunque a tempo determinato per cari quindi che andrebbero a lavorare nei centri per l'impiego e che si aggiungeranno agli oltre 600 di Ampal Servizi che hanno contratti progressivamente in scadenza che poi è il vero paradosso dei paradossi proprio che deve far funzionare la macchina delle politiche attive del lavoro non ha nessuna certezza sul proprio futuro professionale. Infine è tutt'altro che risolto il conflitto con lo Stato sull'assunzione dei navigator. Le regioni non vogliono immettere nel sistema già in difficoltà dei centri per l'impiego altri precari per giunta selezionati in modo massiccio e frettoloso da Ampal e non dalle regioni stesse che temono tra l'altro di ritrovarsi dopo due anni con un problema di esuberi. Alla giornata di oggi sul fronte economico è ancora una volta una giornata difficile innanzitutto per le borse europee che proseguono in calo per quella che è anche la paura degli investitori per il rallentamento dell'economia globale. Piazza Affari poi particolarmente appesantita dalle banche ma gli occhi sono tutti puntati sulla riunione della BCE che potrebbe tagliare le stime di crescita dell'Eurozona e si dovrebbe pronunciare su quello che è il programma di prestiti alle banche. Mattinata regativa per le principali piazze finanziarie europee che sono tutte in rosso. Da Milano a Francoforte c'è area di nervosismo tra gli investitori che dopo il taglio delle stime di crescita economica per l'Eurozona nel 2019 pubblicato ieri dall'Ocse per la quale l'Italia sarà sotto zero e dunque in recessione oggi danno per scontato anche quello che arriverà tra poco da parte della BCE. Mario Draghi tra poco più di un'ora renderà infatti ufficiale quello che già a gennaio ha riconosciuto è in atto un rallentamento della crescita globale dunque anche nei paesi dell'Euro Germania in testa che sembra aver messo in folle il motore della sua locomotiva. Una revisione a ribasso che in molti prevedono sarà consistente rispetto alle precedenti stime molti analisti dunque scommettono sull'arrivo di una nuova operazione di politica monetaria della BCE. Dal cilindro di Francoforte potrebbe uscire infatti oltre alla decisione di continuare a tenere il costo del denaro a zero anche quella di fare prestiti agevolati alle banche a lunga scadenza con tassi bassissimi in modo da stimolare il credito verso le imprese e le famiglie. Insomma una nuova emissione di liquidità per rinvigorire e sostenere il mondo economico dei paesi dell'Euro. Questa volta Mario Draghi all'interno del direttivo non avrà i soliti falchi ad osteggiarlo come in passato ora che anche la Germania è sotto stress per via soprattutto dell'andamento dell'industria dell'auto dieselgate e ritardo su quelle meno inquinanti la politica accomodante di Draghi dovrebbe avere l'appoggio unanime di tutto il direttivo della BCE. D'altronde bisogna far fronte sia alle conseguenze della guerra dei Dazi che alla tempesta che l'uscita disordinata della Gran Bretagna dall'Unione Europea potrebbe scatenare. Con un occhio all'Italia vedremo se anche la BCE confermerà il verdetto in fausto sul PIL 2019 dato ieri dall'Ocse che ci ha assegnato una crescita a meno 0,2% e l'ultima posizione tra i paesi dell'euro. Con un export che fatica ed una domanda interna ancora debole nonostante l'Istat stamattina registri un miglioramento delle vendite al dettaglio. Tornando al fronte politico c'è da dire che riparte lo scontro sui vaccini. Questa volta il caso Sbelli è stata la richiesta da parte del Vice Premier Salvini alla Ministra della Salute Grillo di un decreto per quei bambini non vaccinati delle scuole di infanzia nella fascia di età da 0 a 6 anni perché possano restare nelle aule. Il Ministro della Salute non è propenso a fare estensioni inutili dell'autocertificazione per le vaccinazioni scolastiche dunque il 10 marzo resta la legge in vigore e le famiglie dovranno presentare entro quella data le certificazioni di avvenuta vaccinazione dei figli per la frequenza di nidie materne. Il sottosegretario della Salute Armando Bartolazzi 5 Stelle mette un punto fermo alla questione dei vaccini altro elemento di frizione tra i due aliati di governo Lega e 5 Stelle. Il termine ultimo per le vaccinazioni dei bimbi tra 0 e 6 anni secondo la legge Lorenzina è il 10 marzo data per la quale i bimbi non in regola devono uscire da asidi e materne. Per questo motivo il Ministro dell'Interno Matteo Salvini in una lettera ieri ha chiesto alla Ministra della Sanità Giulia Grillo una deroga sotto forma di degreto legge. Il Viminale spiega di come l'intento sia quello di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia non voglio bambini di serie B dice Salvini primi a respingere la proposta del Ministro leghista sono stati i presidi che parlano di caos e discriminazione dei più piccoli devono salvaguardare i bimbi immunodepressi. La Ministra Giulia Grillo non pensa ad eroghe vuole andare avanti con la nuova legge per il superamento della Lorenzin un provvedimento in discussione proprio in questione al Senato e che entro aprile dovrà essere approvato alla Camera. La vicenda scatena un nuovo polverone politico sul quale non si scontrano solo le due anime del Governo ma trovano terreno fertile anche le opposizioni soprattutto l'ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin leader di Civica Popolare l'intento di Salvini è strappare il consenso dei Novax ai suoi gregari del Movimento 5 Stelle e chi se ne frega della salute dei bambini dice con i vaccini obbligatori le percentuali di bimbi vaccinati nati nel 2016 sono aumentate di qualche punto in tutte le regioni l'immunità di greggia si raggiunge con il 95% di bimbi vaccinati ma per la trivalente morbillo parotite e rosolia il traguardo non è stato ancora raggiunto senza deroghe lunedì i bambini non vaccinati saranno espulsi da niti e materne mentre quelli più grandi potranno restare in classe ma le famiglie dovranno pagare una multa fino a 500 euro andiamo adesso all'estero parliamo di Brexit perché la premier britannica Theresa May si trova ancora una volta praticamente con le spalle al muro perché la prossima votazione quella del 12 marzo rischia per lei di essere ancora una volta un flop perché è forte il timore che possa non avere i voti per far passare l'accordo il negoziato con Bruxelles e da qui prende forma anche sempre più lo spretto che possa essere rimandata quella fatidica data dell'uscita fissata per il 29 di marzo 48 ore entro sabato il Regno Unito dovrà tirare fuori dal cilindro una proposta valida altrimenti la Brexit dovrà essere per forza rimandata l'ultimatum di cui oggi parlano i siti di informazione britannici in realtà è nella logica delle cose gli ultimi colloqui a Bruxelles tra il capo negoziatore europeo Michel Barnier e gli inviati britannici non hanno fatto registrare passi avanti gli scambi di opinioni sono stati robusti secondo il ministro della giustizia Geoffrey Cox il che tradotto dal linguaggio diplomatico significa che le proposte di Theresa May finora sono state sonoramente bocciate il nodo come si sa è sempre il famoso backstop meccanismo per tenere l'Alster allineata alle normative europee ed evitare il ritorno di un confine vero e proprio tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda fino a quando Londra e Bruxelles non troveranno un accordo definitivo sulla loro futura relazione sul rifiuto di questo meccanismo l'accordo che la May aveva firmato con l'Unione è caduto rovinosamente a Westminster il 15 gennaio ma le nuove proposte di Londra non convincono Bruxelles il meccanismo del backstop non può essere né con un limite temporale prefissato né soggetto ad una giurisdizione diversa da quella della Corte Europea di Giustizia in conclusione siamo di nuovo in alto mare e se qualcosa non cambierà nelle prossime ore Sirisa May sarà costretta a spostare ancora il nuovo voto previsto a Westminster per martedì ma con rischio di provocare una sollevazione in Parlamento oppure prepararsi a una nuova sconfitta anche se forse non col devastante margine di 230 voti che l'ha vista a soccombere a gennaio si dice ora che il primo ministro stia preparando per domani un intervento ai comuni una sorta di drammatico ultimo appello prima di arrendersi all'evidenza e alla necessità di chiedere un rinvio della scadenza del 29 marzo un'umigliazione per la premier e un incubo per Bruxelles che sarebbe costretta a far partecipare il Regno Unito alle prossime elezioni per il Parlamento europeo di fine maggio senza nessuna garanzia che anche con qualche mese di proroga Westminster riesca a partorire una soluzione parliamo di un'altra guerra che non è quella dei Dazi ma che è in corso tra Stati Uniti e Cina e riguarda il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei che negli Stati Uniti deve rispondere di ben 23 capi di imputazione che vanno dal furto di tecnologia alle violazioni delle sanzioni all'Iran ebbene Huawei ha deciso di passare al contrattacco e lo ha fatto così Il New York Times lo aveva già anticipato due giorni fa e oggi la conferma è arrivata direttamente dalla voce del presidente di turno del colosso della telefonia cinese Huawei La nostra società ha annunciato infatti Guoping ha deciso di fare causa al governo degli Stati Uniti per verificare la costituzionalità della sezione 89 del NDA Sembra un tecnicismo per addetti ai lavori in realtà fuori dai numeri e dagli acronimi significa che la Huawei colosso cinese delle telecomunicazioni ha deciso di passare al contrattacco e di citare in giudizio Washington per il bando voluto da Trump che impedisce alle agenzie federali di utilizzare prodotti e servizi cinesi perché dietro c'è molto di più di una semplice guerra commerciale nell'estate del 2018 infatti gli Stati Uniti avevano cominciato a studiare possibili mosse contro la Huawei accusata più volte di aver violato segreti informatici e commerciali ma soprattutto di aver compiuto operazioni di spionaggio sul territorio americano e alla fine Trump produrre nella legge di bilancio del Dipartimento della Difesa un divieto per le agenzie federali di utilizzare i prodotti Huawei un vero e proprio ban giustificato dal presidente con ragioni di sicurezza nazionale un po' come accadde nel 2017 con la russa Karspersky Lab ma la questione legale è sottile e non scontata Huawei infatti facendo riferimento al principio del Bill of Attenders sostiene che non si possono combinare sanzioni a un soggetto in mancanza di processo e dunque la mossa di Trump sarebbe stata troppo preventiva o meglio per dirla con l'ex ambasciatore Washington Yesui solo politica e danneggerebbe tra l'altro in ultima analisi anche i consumatori statunitensi vedremo come andrà a finire certo è che la causa contro il governo statunitense getterà nuove ombre sui rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina ma non solo non si può non ricordare che nei mesi scorsi tutti i paesi dei Five Eyes cioè l'alleanza di intelligence anglofona hanno preso misure per limitare la presenza della Huawei entro i propri confini con un'unica eccezione però la Gran Bretagna che sulla tattica antispionaggio sulla rete 5G ha deciso di ballare da sola vedremo con quali conseguenze questa mattina grazie all'utilizio di un potente telescopio dal campo base del Nanga Parba sono state individuate due sagome che si ipotizza possano essere i corpi dei due alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard ormai dispersi da 12 giorni la notizia è stata comunicata proprio sulla pagina Facebook di Nardi nel corso della giornata poi se le condizioni meto lo permetteranno saranno effettuati voli di ricognizione su quella parete ormai già di diversi giorni si è persa come sapete la speranza di ritrovare in vita i due alpinisti andiamo adesso a San Ferdinando per vedere come procedono le operazioni di sgombero cominciate ieri con 600 uomini messe in campo le operazioni di sgombero di quella a Baraccopoli vediamo anche come poco distante ne sia sorta e si stia ingrandendo un'altra sorta di punto di accoglienza una vera e propria tendopoli per coloro che non hanno potuto o voluto lasciare la zona molti sapete sono braccianti che lavorano nella piana di Gioia Tauro quel che resta della Baraccopoli di San Ferdinando si misura in cumuli di macerie quelli accatastati dalle ruspe che dall'alba di ieri sventrano una baracca dietro l'altra abitazioni di lamiera da cui escono materassi tanniche d'acqua biciclette ma ci sono altri ammassi di immondizia sono quelli lasciati tra i sentieri di quello che era un paese nel paese con le sue case i suoi negozi le sue regole dai migranti che in fretta e furia con valigie improvvisate hanno lasciato San Ferdinando ieri il prefetto di Reggio Calabria ha parlato di circa 200 migranti ancora nelle baracche in attesa di una sistemazione se ne sono andati tutti tra ieri notte e questa mattina adesso si potrà procedere allo sgombero dell'intera Baraccopoli di San Ferdinando lattine di birra scarpe occhiali da sole quello che i braccianti hanno lasciato qui verrà presto accatastato dalle ruspe dopo la messa in sicurezza dei vigili del fuoco si procederà all'abbattimento con le X attracciate con lo spray a segnalare quali baracche possono essere distrutte entro domani questo villaggio non esisterà più il prefetto ha già promesso che si terrà un tavolo permanente per decidere cosa fare di quest'area ma ci vorrà molto tempo a pochi metri da qui intanto per i migranti che non hanno diritto all'asilo o per quelli che non vogliono entrare nei cassoni gli sprar lontani da qui la tendopoli è stata ampliata poteva ospitare poco più di 400 migranti fino a 10 giorni fa ora ce ne sono oltre 800 grazie a 36 nuove tende montate in tutta fretta chi ha un lavoro un contratto regolare o chi deve ancora riscuotere lo stipendio non vuole lasciare San Ferdinando conoscono a memoria gli agrumetti gli altri campi della piana di Gioia Tauro abbandonarli significherebbe ricominciare tutto da capo ancora una volta vediamo come dopo i pastori sardi torna a protestare in piazza anche il movimento dei forconi in Sicilia con blocchi stradali e cortei in piazza in tre zone specifiche dell'isola Niscemi sulle Madonie e a Vittoria l'area del Ragusano patria delle produzioni intensive di ortofrutta qui a Vittoria il movimento dei forconi da questa mattina presidia il mercato ortofrutticolo che è il più grande del sud Italia denunciano la profonda crisi delle centinaia di aziende agricole in serre soprattutto nell'area di Pachino patria del pomodoro DOP devastate dalla recente tromba d'aria centinaia di ettari di serre scoperchiate dal vento una decina di milioni di euro di danni e tonnellate di ortaggi in fumo pertanto si chiede un incontro urgente al governo per salvare questo settore la protesta continuerà fino a domani andiamo invece a vedere con le immagini San Giorgio a Cremano 500 fiaccole per dire no alla violenza sulle donne in provincia di Napoli dunque centinaia di persone anche il sindaco che si sono radunate ieri sera per essere vicini alla ragazza di 24 anni che l'altro ieri ha subito una violenza sessuale in un ascensore della circunvesuviana oggi il GIP deciderà sulla convalida del fermo dei tre ragazzi che avrebbero commesso le violenze hanno tra i 18 e i 19 anni sono tutti di Napoli decisive per individuare i responsabili le immagini delle telecamere della zona e l'utilizzo da parte degli investigatori di Facebook grazie al quale sono riusciti a dare un nome a quei volti appunto che erano stati ripresi dalle telecamere di sicurezza adesso invece andiamo dal nostro inviato a Genova perché è una giornata decisiva per la demolizione del Ponte Morandi soprattutto per la Pila 8 dopo che come sapete sono stati trovati nel calcestruzzo dei residui di amianto sono stati analizzati vengono valutate le quantità di conseguenza si dovrà decidere se procedere come stabilito con la demolizione con esplosivo o se per motivi ambientali questo non sia più possibile da qui dipendono anche i tempi di questa demolizione ci sarebbe amianto nel calcestruzzo utilizzato per costruire il Ponte Morandi forse derivante dal materiale usato per la mescola dell'impasto materiale proveniente dalle cave della Val Bolcevara oggi la commissione tecnica ha effettuato un sopralluogo sul ponte la conferma definitiva dell'amianto rimetterebbe in discussione tempi e modalità della demolizione non si potrebbe forse più usare l'esplosivo non sono stati resi ufficiali i dati di ARPAL dopo che la stessa agenzia aveva disposto dei prelievi su 24 campioni a seguito dell'esposto presentato in procura dall'osservatorio nazionale amianto insieme al comitato libere cittadini di Certosa dove si denunciava la presenza di amianto nel viadotto sul Polcevera rischio zero non esiste per la popolazione non esiste per nessuno non esiste per le popolazioni non esiste per gli operai che stanno lavorando sopra e sotto il ponte la parola amianto legata al ponte Morandi torna così d'attualità dopo che lo scorso 15 agosto come dimostra questo filmato girato proprio quel giorno dai vigili del fuoco dell'unione sindacale di base gli stessi avevano segnalato la presenza di Ethernet che qui vediamo distintamente tra le macerie del viadotto crollato nei progetti originali del ponte che vi mostriamo era previsto l'utilizzo di Ethernet nei traversoni di ancoraggio degli stralli presenti sulle pile 9 10 e 11 tornando la pila 8 quella che avrebbe dovuto essere demolita con uso di esposivo sabato prossimo la presenza di amianto è differente si troverebbe nel calcestruzzo questo ha imposto alle imprese impegnate nella demolizione di correggere i piani ma soprattutto di aggiornare il documento di valutazione dei rischi che non prendeva in considerazione la presenza del minerale e con il passare delle ore diminuiscono le probabilità che qualcosa di concreto per la demolizione della pila 8 del ponte Morandi possa accadere nella giornata di sabato visto che la popolazione di Certosa dovrebbe essere allertata almeno due giorni prima soprattutto in caso di esplosione lo scandalo pedofilia nella chiesa che travolge l'arcivescovo di Lione accusato di insabbiamenti e ostruzione alla giustizia francese la condanna per il candinale Philippe Barbaren è di sei mesi di prigione con la condizionale per non aver denunciato un sacerdote accusato di aver abusato di un gruppo di scout tra il 1986 e il 1996 non ho mai cercato di nascondere nulla tantomeno questi fatti orribili si è difeso il polporato che poco fa ha annunciato le sue dimissioni a pesare oltre alla denuncia delle vittime anche la scoperta di uno scambio di lettere nel 2015 con il Vaticano in cui veniva consigliato al cardinale di allontanare il prete evitando lo scandalo pubblico parliamo adesso di una doppia condanna di una doppia bacchettata che è arrivata ancora una volta dall'Unione Europea al nostro Paese per quelli che sono i livelli di smog dunque di qualità dell'aria e per quella che è la qualità del nostro sistema fognario l'Italia non rispetta le regole in materia di smog e trattamento delle acque fognarie l'ultima bacchettata dell'Europa si traduce in una doppia condanna questa mattina la Commissione Europea ha deferito il nostro Paese alla Corte di Giustizia UE per la ripetuta violazione dei limiti annuali di biossido di azoto nell'area di diverse città e per il mancato adeguamento alle norme dell'Unione dei sistemi di trattamento delle acque di scarico in diverse aree ad avere superato i limiti del biossido di azoto sono città come Milano Torino Roma ma anche Genova Catania Campobasso e aree come la pianura Lombarda e la costa Toscana l'infrazione era stata avviata nel 2015 e secondo Bruxelles il nostro Paese ha anche violato la direttiva che impone di mantenere il periodo di superamento il più breve possibile l'Italia però non è la sola a permettere una scarsa qualità dell'aria sono 16 i paesi tra cui Francia e Germania verso cui sono stati predisposti i fascicoli di infrazione due stati Bulgaria e Polonia sono già stati condannati più corposo il fascicolo relativo alle acque reflue per il quale l'Italia sta già pagando multe milionarie sono quattro i procedimenti aperti per la mancata messa a norme di fogne e depuratori ora si aggiunge anche quello sul mancato trattamento delle acque reflue in oltre 700 agglomerati e 32 aree sensibili dal punto di vista ambientale per ridurre l'inquinamento e trovare soluzioni si sta pensando di organizzare dialoghi sull'aria pulita con rappresentanti della Commissione Europea dei ministeri interessati delle autorità regionali e locali per uno scambio di buone pratiche ci fermiamo per qualche istante di pubblicità poi apriamo la pagina sportiva con notizie certo non belle per le nostre formazioni torniamo in studio parliamo di Champions League perché la Roma ha chiuso la sua corsa agli ottavi di finale uscita rimontata dai portoghesi del Porto e mentre si sta ancora valutando la posizione del tecnico di Francesco il presidente Pallotta si scaglia contro l'utilizzo del VAR il giorno dopo la mare eliminazione dalla Champions League le domande e gli interrogativi sull'immediato futuro della Roma si accavalano stamattina alla partenza da Oporto i tifosi hanno indirizzato le loro proteste al DS Monci esortandolo a dimettersi per tutta risposta il dirigente spagnolo ha gridato in sei mesi vi prendo uno per uno è in questo clima sul riscaldato che la Roma atterrerà tra circa mezz'ora a Fiumicino per poi tornare nel centro di Trigoria dove è prevista una seduta defaticante ovvio come l'argomento principale riguardi il destino di Eusebio e di Francesco la sconfitta con il Porto si porta dietro interrogativi e dubbi circa l'esonero del tecnico che ieri molti davano per certo i tre errori difensivi che hanno permesso ai lusitani di approdare ai quarti non sono altro che la riproposizione di un film già visto più volte in questa stagione una squadra che continua a non avere un'identità di gioco e che ieri rigore a parte non è stata mai capace nei tempi regolamentari di inquadrare la porta di Casillas a tutto ciò si aggiungano la poca lucidità in fase conclusiva ma anche la sottovalutazione dell'arbitro Chakir fidatosi delle decisioni provenienti dalla cabina del bar in occasione del contatto in area tra Marega e Schick che avrebbe potuto cambiare la storia della partita episodio questo che ha scatenato l'ira del presidente Pallotta il quale attraverso l'oramai rituale tweet si è scagliato contro chi a suo dire gestisce con personalissima discrezione l'ausilio della tecnologia ma proprio il totale distacco tra le vicende del club e il suo proprietario il cui interesse esclusivo è quello del nuovo stadio appare come l'elemento scatenante di un tragico effetto domino le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti un tecnico messo settimanalmente sulla graticola non è un buon segnale per la squadra che potrebbe trasformarlo in un comodo anime se cambio deve esserci qualcuno si prenda all'onere di metterlo in pratica da subito in tal senso sembra oramai tramontata la candidatura di Paolo Sousa in procinto di accordarsi con il Bordeaux in ascesa vertiginosa invece le quotazioni di Claudio Ranieri profondo conoscitore dell'ambiente giallorosso gradito dall'intero spogliatoio unitamente al nome di Cristian Panucci la società ha già incassato anche il sì di Roberto Donadoni il quale così come i suoi due colleghi assumerebbe il ruolo di traghettatore fino a giugno diciamo anche che a uscire è stato anche il Paris Saint Germain rimontato a Parigi dal Manchester United e questa sera tocca all'Europa League ci arriva un Napoli deluso dallo scontro diretto per una scorsa scudetto che si è virtualmente chiusa con la Juventus e un Inter fiaccata dalle polemiche del caso Icardi la sconfitta di pochi giorni fa contro la Juventus ha definitivamente dirottato le attenzioni e le energie del Napoli sull'Europa League ultimo obiettivo rimasto per salvare una stagione sotto tono ad Ancelotti resta un altro secondo posto e il trofeo continentale che stasera al San Paolo passa per la sfida col Salisburgo andata degli ottavi di finale per allentare un po' l'attenzione il tecnico ci mette tutta la sua filosofia di vita la mia tranquillità è legata al fatto che penso che lo sport è il calcio che rimane una grande passione è la cosa più importante delle cose meno importanti della vita gli austriaci sono un cliente difficile da affrontare con accortezza dovrà essere una partita con un profilo diverso rispetto a quella con la Juve perché il Salisburgo aggredisce di più gioca un calcio verticale e a ritmi molto alti per quanto riguarda le ultime dal campo in attacco giocheranno Milikensigne e in difesa ci sarà il ritorno di Goulam anche per l'Inter l'Europa League è l'ultimo trofeo rimasto a disposizione la vigilia della partita in Germania contro l'Eintracht Francoforte è stata movimentata da un nuovo tassello della vicenda Icardi ieri c'è stato il primo passo verso il disgelo l'amministratore delegato Marotta ha incontrato il giocatore e la moglie manager Vanda Nara è presto per parlare di svolta ma è apparso chiaro che l'obiettivo di tutti è arrivare quanto prima a una soluzione per avere subito in campo l'argentino magari già domenica prossima con la spalla a San Siro Stasera Spalletti per i suoi 60 anni spera di farsi un regalo battendo l'Eintracht ma dovrà fare a meno di Nainggolan di nuovo fermo stavolta per un problema muscolare al polpaccio sinistro che mette a rischio la sua presenza anche per il derby del 17 marzo per noi come per loro la vita passa tutta velocemente scorre velocemente per cui bisogna andare forte sempre e noi domani sera cercheremo di andare forte considerate tutte le assenze si va verso il ritorno al 4-3-3 con Borja Valero insieme a Brozovic Vesino e Mediana dietro ad Altridente Pulitano Lautaro Perisic era l'ultimo servizio vedo Tiziana Giapanella già pronta per Tagadà a lei vi lascio questa sera l'informazione come sempre alle ore 20 con il telegiornale noi se vorrete ci vediamo domani alle 13.30 buon pomeriggio